La città del Tau si tingerà dei colori e dei valori dei giochi nazionali estivi Special Olympics Italia. Dal Topascio passerà per la prima volta la tradizionale torcia olimpica. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa sono stati il sindaco Sara D'Ambrosio, il presidente del comitato organizzatori degli Special Olympics Moreno Mencarelli, l'assessore alla cultura del comune di Alto Pascio Martina Cagliari e l'assessore alle attività produttive del comune di Montecatini Elga Bracali. Alto Pascio parteciperà e lo farà con un evento nell'evento che si terrà nella seconda metà di maggio, grazie anche al coinvolgimento delle tre realtà del territorio da sempre impegnate e attenti ai temi della disabilità, Pandava Skin Alto Pascio, Sport Toscana Calcio Valilla e Punto Handy. Grazie alla Torch Run, infatti, saranno diversi i territori della regione ad essere toccati e letteralmente invasi dallo spirito che anime rende unici i giochi Special Olympics. Con 3.000 atleti, 20 discipline sportive, 1.300 volontari, 650 tecnici, 600 delegati accompagnatori e 1.400 familiari, la manifestazione, giunta alla sua 34esima edizione e in programma a Montecatini dal 4 al 10 giugno, rappresenta un prezioso strumento per sensibilizzare le città coinvolte e territori limitrofi sul tema della disabilità intellettiva e per educare i più giovani alla comprensione e alla valorizzazione delle diversità in ogni sua più ampia espressione.